Vabbè ragazzi che cazzo è bello adesso No 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 Bello a tutti e benvenuti al canale io sono qui Siamo qui un film di ritorno di semi sexy Ragazzi siamo qui a fare una solo coltelli E siamo qui a fare un bellissimo 3v3 che ormai mi sono affezionato ai 3v3 Oh mi raccomando non sparate Che il primo che spara No no Un pesce in faccia No no Perchè caide che sei lento quanto mia nonna Non gioche No giochere Oh no no giochere ok Oh oh maverick vaffanculo è fatto a cagare Oddio No vabbè cavera che drop shot è inguardabile Sono spaventato di bada ha fatto E io E qua Rambo Ciao Ciao Rambo Non mi sia passato il personaggio manna è della mente No Mio 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 Ho premuto la levetta e non si è passato Corri pigliatola pigliatola quello là Quella la pigliatola Eccolo L'abbiamo preso Break Mai Giustica elite Cos'è? Mai ancora giustica elite Ma io lo devo ancora capire Non me l'ha mai chiesto nessuno nell'arco di quando mi si era rotto in poi Un mese a questa parte tutti mi chiedono mai ancora l'elite è rotto Non so lo fate per sfottermi Cioè per farmi ricordare che ho un'elite che è durato solamente un mese o me lo chiedete perché vi interessa realmente No comunque ho ancora rotto Ok Ok Ragazzi scusate no Chi è che c'ha il cronometro lì per quelle cose per i fornetti Capito Capito Su che mezzo vai? Su che mezzo vai? Vai in macchina come noi cristiani o per caso lei per andare a scuola a pia all'elicottero? Ah No Vado io Dai Ciao lion Ciao No Come va la vita? Ciao ragazzi Eccolo Ti hanno impaninato Seventi No No Vai Drake No Ma che No vabbè ma gli si è tolta proprio la stun in quel momento che sono arrivato lì Porca Quando hai trattito capito Raga quando è la mia ammazzata Raga quando è la mia ammazzata avevo il coltello nelle mani io Il coltello come vai? Avevo il coltello dentro la mia mano Il potere hanno mi abbandonato ancora Beh vabbò Ho il coltello tra le mani Non potevamo fare un altro video che non era buono Vai ragazzi sono più potete tra tutti sono più forte vai Cioè la frase La frase è bella perché Ho il coltello Ho il coltello fra le mani No non si Oddio Cioè a meno che tu non tiri le coltellate con i denti Dentro 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 le mani Ragazzi Scusate Io rimango dentro perché per sbaglio mi è capitato un operatore Io vengo lento Perché Ragazzi No no devi venire fuori Mi è capitato tutta Chanka Mi è capitato tutta Chanka Prima Andrò fuori Non mi ricordo chi si è preso Kaij Sì infatti Eh vabbè Ho un po' lo Ho un po' lo meccanico che mi voglio buttare sopra dal comodino Vabbè io da un altro di velocità ma ne ho due quindi Ragazzi copritemi Non posso Non posso morire Madonna ecco Eh sì vabbè ragazzi Eh Sì vabbè Mi sa che vengo lì insieme a te sai Mi sa che vengo qua tenuti compagnia Io mi sa che Mi sa che da qua non ci muoviamo Oh oh Come fate? E mo come fate raga? Ah venite 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 Va bene No 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 ho paura Ragazzi devo chiamare le ferme Per cosa? Per venirvi a prendere Ho un'idea Vai ora ora che sono flashati Oh vai No No dai ti prego non voglio me Oh Oh madonna Bravo mi hai vendicato No 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 non vi due No Drake Sono lenti Sono lenti Drake Tu sei più veloce Sì sì infatti sono più veloce a salire le scalette infatti Io sono adorppato Io sono adorppato Comunque sono cancrissime le scalette vero Sono cancrissime Sono cancrissime Il botto Non me l'aveva visto Mannaggia l'aveva buttata Non me l'aveva visto Vabbè ma non tira il giro E prima l'aveva Che cazzo c'ha nelle mani Che cazzo c'ha nelle mani Al potere della forza Che cazzo c'ha Il botello wifi per favore Vabbè È fatto una bellissima bossa Vabbè Va bene XXX Xdd Oh my god Termite No dio Ok È preso e marocchino Of h so receive Cos'è questo Cos'è questo razzismo nei miei video Oh? Piano e Si l'ho fatta e l'ho mutata E potevi dirla che aveva iniziato Dair sta laggando in una maniera a dir poco sfreggevole Oh la piettima mi che va oddio Oddio Ash Ash ce l'hai dietro Ash ce l'hai dietro Non ce l'hai dietro Allaogbar Vieni Dai ragazzi Io voglio amassare Aiuto Ti sono io No Vai 70 Vai Oddio Sì Guarda che non c'era la coltellata Da quando c'era l'assortente Quella le accecanti quei cosi Da quando è che c'è l'ha Da sempre Da decenni Da sempre Da quanto è nata l'ha Dagli anali di Rainbow Six Analisi di Rainbow Six A cosa? Dagli anali di Rainbow Six Pensavi fosse tuo amico Ma in realtà era tuo nemico Ma sì ma perché io ho scritto in privato Gli ho detto di aiutare a vincere Gabi è un 4 v2 questo Se avete un alleato non alleato Alleato non alleato Oh madonna Vabbè io mi vuole abbandonare 100.000 Un altro consiglio Poi non so C'è da me Si lascia 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 Oddio sono già qui Ma cosa l'ha Mi vuole vedere Cosa? FONTIM HAHAHAHA Non è vero 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 Guarda Direi che ci sono questo Guarda E vabbè Vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E solo scolaggine E solo scolaggine E' lasciato E' lasciato E' solo scolaggine Si è che stiamo alzando un controller ragazzi Mi permetto di fare questo Mi permetto di fare questo Visto che l'ultimo Oh ma basta Sgrillettarvi No 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 Dai Vabbè 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 Oh va bene ragazzi Sgrillettatemi ancora un po' Sì dai Mi sento bene 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 Porcae Ce la posso fare 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 Si ma qua tirano flashback Blitz da qua Quando è che è valido Nei solo coltelli Avevo detto solo coltelli Non solo scudi Oh my god Chi è questo Cristiano? Quel Takanka Dai Si ma dai uno Dai c'è uno col blitz E mo Ma dov'è? E mo Bufus di pizza Lambo Vabbè Lambo Te le regole Proprio a zero Ma perché non sarei sceso comunque? Forse ti sei guardato un po' troppo Cioè adesso O ti guardi troppo i film Capisco che nel film di Rambo Rambo fa il cazzo che gli pare Però adesso Non è che devi fare il cazzo che ti pare pure qua No dai No ti prego No Vabbè Non è che sia tanto utile Raga se non scende Scendi dalle stalle Non viene così? Non ne fai di casino anche Vai io prevedo un altro full team Mi sono cercato da solo Mi sono cercato da solo Stanno guardo Stanno guardo Bravo Ti prego Lasciami il bag Tu scendi Mi sono storbito Mi sono paura di me No non posso più fare full È Kevin è mio Kevin è mio Kevin è mio È mio Kevin Zia puttana Troia È tutto vostro Vai Blitz Voglio aiutare Seven Vai corri Blitz 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 all'addosso Blitz all'addosso No No Blitz Vai Blitz Bara Bara Che tanto quello di prima Barato Bara 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 Oddio Oddio Vieni ragazzi spera che questo un po male però va beh vabbè riuscito un po male Ma la vendia voglia di farmi fare l'altro ci danno va bene con la venta ma di farmi fare l'auto grazie grazie per anche questi mesi è piaciuta siete ecco commenti scrivete che non avete fatto riuscire a avere col prossimo video salutate ciao ciao buona giornata buon carnevale a tutti buona pasqua